Lavori di asfaltatura, riordino dei parcheggi e nuova illuminazione. L'aggiunta del sindaco Massimo Seri ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell'ex foro boario, un'area molto utilizzata e frequentata dai cittadini che diventerà più funzionale a servizio della città. L'investimento del comune ammonta 800 mila euro. Per valorizzare le potenzialità del parcheggio del foro boario abbiamo messo in campo più azioni. La prima è un'asfaltatura dell'intera superficie, significativa perché ad oggi sicuramente ammalorata. La seconda è proprio una nuova segnaletica che andrà a riordinare la sosta selvaggia che è sotto gli occhi di tutti, ma quando parlo di segnaletica parlo di una segnaletica che riguarda sia tutto quello che è il passaggio pedonale nuovo che si costituirà, attraversamenti pedonali e anche le nuove direzioni di mobilità all'interno del parcheggio che metteranno in sicurezza pedoni, ciclisti ma anche le stesse auto. Ed inoltre la nuova disposizione di quelli che sono gli stalli, che nella parte centrale saranno a spina di pesce, in alcune parti invece a pettine ed altre in linea, è fatta proprio in modo per tutelare tutto quello che è la parte vegetativa, quindi le specie arboree, ricordiamo ci sono 120 alberature all'interno di quel parcheggio, è fatta anche per favorire quelli che sono stalli conformi alla legge, per una circolazione di grossi mezzi che vengono utilizzati per la manutenzione del verde, ma anche dell'illuminazione dei mezzi di soccorso che naturalmente devono transitare all'interno dell'aria e per tutelare quelle che sono le fragilità. Infatti verranno ricavati 318 stalli, di cui 15 per persone con disabilità e per mamme in gravidanza, a questi si vanno ad aggiungere 45 posti per bici e moto, tutti gratuiti, l'attenzione poi sarà rivolta anche alla sicurezza. Anche alla luce di quegli episodi negativi che si sono realizzati nel corso degli anni e soprattutto con un potenziamento di quello che è l'illuminazione, dove passa da 12 punti luce a 35, ricordo punti luce a LED, quindi con un risparmio energetico e sicuramente una migliore efficacia anche di luminosità. Oltre questo siamo intervenuti anche sul decoro, riqualificando quello che è l'ingresso, quindi andremo a migliorare la cancellata e tutta la parte di pavimentazione, soprattutto all'ingresso, che sarà continuativa alle linee adiacenti. È una risposta molto importante d'attesa dalla città, che mette in collegamento il centro storico, l'ospedale e tutte le attività limitrofe, oltre che essere anche un posto utilizzato dai residenti, per cui diciamo che entro l'anno andrà a gara per poi essere realizzato per la primavera del prossimo anno.